Allora siamo nella cucina del restaurant L'Altro a Hong Kong Mi chiamo Filippo L'Eveillé, io sono il chef dell'Altro e del Miramonti dell'Altro in Italia E noi siamo nella cucina, io vi preparo un freddo di cavo fiore con uovo poché e tartufo bianco che è proprio la piena stagione in Italia e credo a Hong Kong La prima cosa, si può andare nel camofiore togliamo il centro, viene spezzettato, viene messo da una busta lo mettiamo sotto vuoto, lo cuociamo al vapore, le pezzatine le mettiamo dentro, viene salato aggiungiamo qualche pezzatino di burro e questo sacco viene messo sotto vuoto fate di mettere solo sotto vuoto per non avere dispersione di sapore, di gusto nell'acqua ma teniamo tutto nella busta abbiamo messo le cavo fiore le primi 5-10 minuti a 30 gradi poi dopo aumentiamo a 100 gradi per il resto della cottura poi abbiamo messo con il frattuato, il frattuato, il frattuato, il frattuato, il frattuato e il frattuato e il frattuato viene setacciato allora adesso si occupiamo delle animelle uguale, sale, pepe e mettiamo le animele a friggere olio di semi fritto 2-3 minuti adesso mettiamo le uova 28 minuti a 64 gradi con un runner a temperatura controllata questo lo lasciamo tranquillo allora la crema di camufione usaggiamo l'uovo e lo asciughiamo un pochino e le animele fritte olio d'oliva extravergine allora l'uovo 64 crema di camufiori animele croccante e tartufo bianco d'alba e adesso lo mangiamo musica musica Grazie per la visione!